i più famosi capi delle tribù indiane d'America. I nativi americani, o indiani d'America, sono i popoli indigeni del continente americano. Prima dell'arrivo degli europei, erano organizzati in tribù che vivevano in regioni diverse, con culture e tradizioni proprie. Ogni tribù aveva i suoi capi, che erano responsabili di guidare il popolo, prendere decisioni importanti e difendere la tribù dagli attacchi nemici. I capi venivano scelti per le loro abilità, la loro saggezza e il loro coraggio. Alcuni dei capi delle tribù indiane d'America sono diventati famosi per la loro leadership e il loro coraggio. Questi capi hanno guidato i loro popoli nella difesa dei loro territori e delle loro tradizioni, e hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Cocchise. Cocchise era un capo Apache che guidò la sua tribù nella resistenza contro l'esercito degli Stati Uniti. Cocchise era nato nel 1812 e fu cresciuto dal suo padre adottivo, Mangas Coloradas, un altro famoso capo Apache. Cocchise era un grande guerriero e un abile stratega. Guidò la sua tribù in numerosi attacchi contro l'esercito degli Stati Uniti, infliggendo loro pesanti perdite. Cocchise fu anche un diplomatico abile, e riuscì a negoziare diversi trattati di pace con il governo degli Stati Uniti. Cocchise morì nel 1874, ma la sua lotta per la libertà dei nativi americani è ancora ricordata oggi. Toro Seduto. Toro Seduto era un capo Siu che guidò la sua tribù nella resistenza contro l'espansione dei coloni americani. Toro Seduto era nato nel 1831 e fu cresciuto nella tradizione Siu. Toro Seduto era un grande leader spirituale e un oratore eloquente. Fu lui a guidare i Siu nella battaglia di Little Bigorn, dove sconfissero l'esercito degli Stati Uniti. Toro Seduto fu imprigionato nel 1877 e morì nel 1890. La sua lotta per la libertà dei nativi americani è un simbolo di resistenza e coraggio. Geronimo. Geronimo era un capo Apache che guidò la sua tribù nella resistenza contro l'esercito degli Stati Uniti. Geronimo era nato nel 1829 e fu cresciuto nella tradizione Apache. Geronimo era un guerriero feroce e un abile stratega. Guidò la sua tribù in numerose fughe imboscate contro l'esercito degli Stati Uniti. Geronimo fu catturato nel 1886 e imprigionato per il resto della sua vita. Geronimo è considerato uno dei più grandi guerrieri nativi americani. La sua storia è un simbolo di resistenza e orgoglio. Capo Siattol. Capo Siattol era un capo Suquamish e Duvamish che guidò le sue tribù nella difesa dei loro territori. Capo Siattol era nato nel 1786 e fu cresciuto nella tradizione Suquamish e Duvamish. Capo Siattol era un leader spirituale e un oratore eloquente. È famoso per il suo discorso Il sentiero dell'uomo bianco, pronunciato nel 1854. In questo discorso, Capo Siattol espresse la sua preoccupazione per il futuro dei nativi americani e la loro relazione con i coloni bianchi. Capo Siattol morì nel 1866. Il suo discorso è ancora oggi considerato un importante documento sulla storia e la cultura dei nativi americani. Altri capi famosi. Oltre a Cocchise, Toro Seduto, Geronimo e Capo Siattol, altri capi delle tribù indiane d'America sono diventati famosi per la loro leadership e il loro coraggio. Tra questi si possono ricordare Shoshone, Pocahontas, Sacagawea. Cherokee, Sequoia. Seminole, Osceola. Comanche, Quanaparker. Siu, Crazy Orse, Sitting Bull. Kiova, Quanaparker. Navaggio, Manuelito, Barboncito. Arapao, Blackhawk. Questi capi hanno avuto un ruolo importante nella storia dei nativi americani e la loro lotta per la libertà e l'indipendenza è ancora oggi un simbolo di speranza e ispirazione.